Benvenuti nella scuola secondaria Fratelli Cervi di Binago. Venite, questa è la nostra scuola. Questi sono i corridoi. Al pian terreno troviamo il nostro laboratorio di arte. Venite! Seguitemi per questa bellissima scalinata. Al primo piano troviamo la nostra bellissima biblioteca. Sempre al primo piano, ecco la nostra ola molto mediana. Seguitemi, continuiamo ad esplodare. Fra qualche mese raccoglieremo le verdure del nostro orto. Questa è la nostra palestra. Venite a vedere cosa c'è nelle nostre classi. Le nostre classi sono colorate e dotate di tanti strumenti. Abbiamo una lavagna tradizionale e una lavagna multimediale. Su questa lavagna possiamo scrivere e andare su internet. Si può anche collegare al computer come schermo specchio. Nel corso dell'anno partecipiamo a diverse iniziative. Ecco di seguito qualche esempio. Ecco di seguito. Ed ora la parola ai nostri compagni di terza per qualche consiglio. Fate sempre tesoro delle cose che dicono i professori. Prendete la scuola seriamente, non è un passatempo. Non abbiate paura di fare nuove conoscenze. Siate il più curiosi possibile. State tranquilli che la scuola non è difficile ma bisogna impegnarsi come in tutte le cose. Non abbiate paura di valorizzarvi. Studiate tanto le materie che vi piacciono. Rispettate sempre le regole. Non abbiate paura di parlare con i docenti. Non abbiate paura del cambio scuola. E siete partecipi perché io sono stato in Turchia. Dovete capire il vostro metodo di studio. Studiare sarà più semplice. Non pensate che una materia sia più importante dell'altra. Tutte le materie sono importanti allo stesso modo. Studiate dall'inizio fino alla fine e vedrete che non avrete problemi né con i professori e neanche con i voti. Rispettate sempre i vostri compagni e i vostri futuri professori per creare un rapporto di fiducia fra di voi. Vi do un semplice consiglio, cioè quello di stare tranquilli perché può sembrare difficile superare le medie ma impegnandosi ce la si fa. Vi saliamo! Vi saliamo! Vi saliamo! Vi saliamo!